Una manifestazione attesa dagli sportivi e non dal 5 al 9 settembre allo stadio adriatico Cornacchia di Pescara, la Scudetto Cup. Il torneo di calcio Under 15 deve il suo nome all'invenzione di Gabriele D'Annunzio, lo scudetto tricolore cucito sulla maglia della squadra campione d'Italia e si conosce d'altronde anche la passione del vate per lo sport. L'iniziativa è organizzata nell'ambito della quinta edizione del Festival D'Annunziano. All'incontro di presentazione sono intervenuti il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, tra gli altri l'assessore comunale allo sport di Pescara Patrizia Martegli e l'assessore allo sport di Montesilvano Alessandro Pompei, la società Fulgore Curi Pescara con Antonio Martorella e Claudio Croce, promotori dell'evento. La parola scudetto è stata inventata da Gabriele D'Annunzio, il nostro concittadino più illustrato ed è a lui che è dedicato il torneo. Sarà una grande festa del calcio giovanile nazionale e internazionale con i migliori club d'Italia, a parte compreso il Pescara, poi abbiamo Inter, Milan, Roma, Juventus e Paris Saint-Germain, perché sappiamo che D'Annunzio ha vissuto a Parigi dal 1910 al 1915. L'auspicio prima di tutto tecnico è che si possa vedere un bel calcio e poi magari così il sogno è che tra 6-7 anni qualcuno di questi 150 ragazzi, uno, due, arriverà in nazionale e noi diremo che l'abbiamo visti a Pescara con largo anticipo. Sì, giusto. Nell'ambito del Festival D'Annunziano che è giunto alla quinta edizione, si è pensato di organizzare anche un evento sportivo di rilevo, di rilevo internazionale. Sapete tutti quanti che Gabriele D'Annunzio è molto legato allo sport. Da questa idea si è pensato di organizzare un torneo internazionale di calcio giovanile coinvolgendo le squadre delle città dove Gabriele D'Annunzio ha vissuto. Ricordiamo le date. Il torneo partirà martedì 5 settembre e la finale, grazie ai buoni uffici dell'amministrazione comunale, del sindaco Carlo Masci e dell'assessore Patrizia Martelli, si terrà allo stadio Adriatico, quindi diamo a tutti i tifosi appuntamento dal 5 al 9 settembre, in particolar modo il 9 settembre la mattina alle 9.15 la finale del terzo e quarto posto e a seguire alle 11.15 la finale per il primo e il secondo posto con le premiazioni. Grazie.